Ancora ci si chiede perché è stato cacciato dal Movimento 5 Stelle, la risposta arriva dal meetup che in una nota inviata dal consigliere comunale, la grillina Virginia Ferruggia, fa un escursus di quanto accade in città. L'incipit del comunicato redatto è composto da cinque parole, per il bene di Gela. Il meetup sottolinea che l'improvvisazione e il pressapochismo con cui l'amministrazione affronta le quotidiane criticità di Gela ci lascia del tutto essere fatti. In difesa di coloro che hanno offeso la giornalista Lucarelli, in nome di una falsa difesa della città, la compagine di governo inventa il nudismo tra carcasse ed animali e amianto. Non serve a nulla che la Commissione Sviluppo Economico suggerisca programmi strutturati per il centro storico, all'aggiunta non importa. Meglio sbrigarsi a estrapolare qualche cosa marginale che sta nella proposta e si crea l'estemporanea degli ombrelli più cari del mondo. Il meetup avverte, vedrete che a breve incolperanno la Commissione come incolpano i cittadini per i rifiuti, perché anche in questo caso a nulla serve che i comitati, i cittadini e le associazioni suggeriscano delle isole ecologiche per ottimizzare la differenziata. Si preferiranno sempre soluzioni che esporranno la città a costi sempre maggiori, oltre al danno sanitario e d'immagine sempre maggiore. Nella nota si legge ancora che tutti i piani strategici, le programmazioni, i piani di medio termine sono fermi come del tutto scuro e il futuro della città relativamente al bilancio e al piano regolatore. Un futuro radioso si prospetta invece per l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti e che a quanto pare agisce incontrollata e legittimata al disservizio. È di pochi giorni infatti che è stato autorizzato il pagamento dei servizi aggiuntivi per più di 600.000 euro con ordinanza sindacale e contestuali decreti ingiuntivi. Per il resto, rimarca il meet-up, improvvisazioni utili a sviare l'attenzione da problemi enormi che il sindaco ha deciso di non risolvere facendo un grande regalo a Caltacqua, Politecnica, Tecra, Eni, Presidente della Regione e altri. Stesso destino per le bonifiche dove con tutti i tavoli aperti, ironicamente, si potrebbe fare un negozio di mobili ai quali puntualmente si assenta notturno Eni e Regione in un continuo rimpallo. Ogni attenzione è centrata sull'inutile rampicata sociale di gente che non si è mai attivata per il bene della città e che oggi invece la gestisce totalmente, mentre ci immaginiamo il sindaco che passeggia su una città distrutta con una bici elettrica comunale, sotto un cielo coperto da inquietanti, costosi ombrelli spaventapasseri, compiaciuto di avere tradito il movimento e una città intera. Preoccupandosi, ribadisce il meet-up, solamente di regalare alla sua segretaria una riconferma senza interruzione di un posto di lavoro al comune che loro sperano possa diventare a tempo indeterminato.